Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video io sono Igor e come potete vedere oggi siamo su Fortnite Allora ovviamente andiamo a regalare questo balletto bellissimo a uno di voi inscritti Allora E ma cazzo Lui Glielo facciamo così Eee Tutti i regali sono stati consegnati Mi raccomando ragazzi se anche voi volete un regalo Scrivetemi qua sotto il vostro ID e ovviamente mettete anche un like Ovviamente andiamo a cambiare subito skin andiamo a mettere questa E let's go Qua siamo con Baba Vediamo coppie normali perfetto E ready Vai metti pronto Allora ragazzi Purtroppo non ho shoppato il pass battaglia Perché non mi piace tanto quindi Meglio di no Non sono dopo ragazzi Ma vanno A sprecarsi i soldi inutilmente Ulala Vi ringrazio ragazzi che siamo arrivati a 30 iscritti E qua siamo con Baba Baba di qualcosa Ciao Ecco Che vedrete sempre con lui Con Io e lui giocare Ho creato ragazzi anche una vanilla Su Fortnite Ehi su Fortnite si Su Su Minecraft Quindi ci sarà Ci sarà da divertirsi Qualcosa ho iniziato già a costruirla Ma Ovviamente Non lo farò senza di voi Non andrò avanti senza di voi Baba Scendiamo a Misty Meadows Dammi qualche segno Per sapere se sei vivo Ok ci sei Allora ragazzi Me la sento che oggi Che oggi facciamo una vittoria reale Quindi Let's go Allora scendiamo in fondo Baba Sì va bene Scendiamo tipo Io scendo in quella casa Bene Tu scenderai in quella Sì Oppure quella che ti pare Cioè non che non voglio che scendi da me Solo che Nella mia c'è già poco loot Quindi Ho pensato una R bianca Ho trovato Meno male Ho trovato Una R bianca Che non cambia quasi niente Però Me la faccio piacere Se trovo anche un pompa Sono contento Bene 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 Baba ho trovato un'arma per te Ok Che non prendo la nonna Ma ancora un po' Mi sa Che lo preoccupa Cosa c'è in questo cesto leggendario Baba Arriva arriva Bene 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 ora Fami gift Ciao igh Un pacchetto regalo? Vabbè prendi qua! Hai preso? Hai un pompa? Grigio verde! Rosso! No dai va va! Fai serio! Grigio rosso! Eh si! Grigio verde! O azzurro? Nessuno! Allora come mi hai detto che hai il pompa? Ciao! Sono tutte uguali! Rosso! Non c'è rosso va va! Non esiste un pompa rosso va va! Aspetta! Vieni! Vabbè! Ti senti? Si! Cosa che vuol dire? Allora ti stavo dicendo Hai pompa? Quanti pompa hai? Quanti pompa hai? Quanti pompa hai? Ok! Aspetta! Aspetta! Prenditi questo invece di quello che è meglio! Quello stesso! No! Quello! Trovo due! Vedi! Ho questo e questo! Eh! Butta quello perché ti fa uccidere per niente! Cioè! Deve essere capace a usarlo eh! Allora! Buono! Un'errazzurra! Uhuh! Vieni babba! Tsss! Prenditi questo! Che è meglio Andiamo Vieni papà Entra Muoviti muoviti Vieni Muoviti papà No dai papà Abbastanza No babà Arrivato Dai salta che poi ti chiudo babà No babà non distruggere Tu non riesci va a sanerare Non riesco a sanerare Non riesco a sanerare No babà Non sparare botte Non sparare botte Sparalo Sparalo Adesso sparalo Ce l'ha con noi Bravo Bravo Ce l'ha con noi adesso Quando gli altri sparano al botte Ricordati babà di non sparare al botte Capito? Vediamo 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 prima cosa se non c'è nessuno No babà No babà non spaccare Entra Allora 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 Non c'è nessuna A Hei Vieni Sveglite Vieni Ok Scappa baba scappa Baba hai mutato il microfono Non ti sento Mi senti adesso? Sì Scappa dal bot Non farti peccare Ah ti sei già fatto peccare dal bot Hai uno scudone? No non ce l'ho Se no te lo facevi Se ce l'avevi Te lo facevi che era meglio No baba non devi entrare anche te qua dentro Se no Andiamo Non c'è niente No vabbè non spaccare da tutti e due i lati Vieni Entra Prenditi lo scudone e bevilo Vieni sali qua dentro Sali qua Aspetta Aspetta Tu non farei niente baba Sono quasi morto Non ci credo No baba Ti avevo detto di non seguirmi Ti avevo detto di non seguirmi Scendi Vieni ormai sei qua Sali Ah no ok No no perfetto No no Non fare niente Ok Ok Così loro ci cascano Che lì su c'è qualcuna Vieni vieni E noi staremo qua un attimo Tranquilli Che mi devo organizzare No mi hanno piazzato la taglia Non ci credo Lontano dalla porta Papà non fare niente Zitto Mettiti così baba Mira la porta Mira la porta E qua baba Baba stai dentro Stai dentro No Si è piazzato proprio lì Vieni baba Non ci credo Si papà stai dentro papà vieni mira la porta 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 la porta